ora andremo invece a fare cari amici di potere robot in questo video andremo a dare il primer alle parti rosse ossia vorremmo ottenere il colore perlato sia rosso più scuro che quello rosso più chiaro che vi ho fatto vedere nei video precedenti quindi per ottenere questo effetto rosso qui sarà un rosso più chiaro su queste parti e un rosso più scuro su quest'altra parte quindi come lo otterremo lo otterremo dando un primer grigio su tutto e poi sulle parti più chiare andrò a dare un colore bianco e poi vi farò vedere anche le sfumature in shading quindi pronti via andiamo a dare il primer alle nostre ali naturalmente indossate sempre la mascherina grazie a tutti Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ecco qua il primer si è asciugato. Volevo farvi vedere come si è steso veramente in maniera omogenea. Veramente in maniera perfetta. E naturalmente senza l'uso di nessun diluente perché il colore lo date direttamente dalla boccetta. Veramente c'è nessun diluente, proprio così. E veramente questo è, vedete come proprio si è steso in maniera assolutamente perfetta il colore. E qui dopo sulle parti, come vi dicevo, sulle parti queste qua che ritengo le più chiare anche sul brain condor, andrò ad applicare un colore bianco perché così il colore risulterà ancora più chiaro quello che andremo a dare sopra come colore, diciamo, definitivo. Amici di potere robotico, adesso continuiamo con il procedimento verso il raggiungimento del colore rosso desiderato. Allora vi faccio vedere due pezzi qua che dovranno terminare di colore rosso ma di due rossi differenti. Infatti vedete che questo pezzo poi si incastra dentro a questo. Quindi io ora cosa cercherò di fare? Cercherò di dare un po' di sfumature a questi due pezzi con due rossi differenti. Come vi ho fatto vedere in precedenza i due rossi in considerazione sono questo, il bright red e il carmine red. E cercheremo di dare a questo pezzo due sfumature di rosso differenti giusto per dare un po' più di movimento all'oggetto, quindi alle nostre ali. Quindi la parte interna che è questa, come vedete, la andrò a fare di un rosso più chiaro e questa parte esterna con un rosso più scuro. Poi vi farò vedere anche lo shading. Ma ora per enfatizzare, per migliorare questo effetto, quindi la parte più interna la vogliamo fare più chiara, non la lascerò di questo colore ma andrò a colorarlo di bianco. Quindi farò diventare questo pezzo più chiaro e quindi essendo più chiaro il rosso a sua volta sarà più chiaro. E niente, adesso procediamo alla colorazione e poi praticamente vi farò diventare questo pezzo e il suo relativo dall'altra parte bianco, mentre invece questo pezzo lo lasceremo con il primer greggio scuro e lo andremo poi a scedizzare. Per dare maggior risalto a un pezzo rispetto all'altro. Quindi questo sarà più scuro e l'altro sarà più chiaro, proprio per dare più movimento all'interno della stessa ala. Come al solito, prima di versare il colore all'interno della nostra coppa, del nostro aerografo, andremo a versare il nostro cleaner diluito in una soluzione d'acqua. Quindi vedete che noi abbiamo il nostro recipiente, andiamo a versare del cleaner diluito in una soluzione d'acqua e vediamo che il nostro aerografo comunque funziona molto bene ed è ben pulito. Bene, ora andiamo a prendere il nostro colore, come sempre, eccolo qui, lo shakeriamo per bene e lo andiamo a versare dentro la coppa. Naturalmente pressione a due atmosfere, 1,8 barra 2. Ecco qua, prendiamo il colore, ne versiamo non tante perché devono andare a fare pochi pezzi, quindi è più che sufficiente, quello che ho versato all'interno della coppa, anzi ce n'è fin troppo, vedete. Prendiamo il nostro pezzo, che abbiamo deciso di fare di colore bianco per renderlo più chiaro. Aerografo a 15 cm circa, distanza dal nostro pezzo, andiamo a colorare. Purtroppo qualche inconveniente si può stare, però ora siamo pronti per ripartire. Allora, con mano leggera, qui vedete, sempre a 15 cm circa dal nostro pezzo, andiamo a dare una mano leggera di bianco. Lo giriamo anche. Visto che comunque è un bianco abbastanza coprente, questo qui è la custom. E ora abbiamo dato la nostra mano leggera e comincia appena a cambiare. Però abbiamo dato una mano leggera, ora lo lasciamo un attimo asciugare, scusate, e andiamo a prendere l'altro pezzo. Sempre con una mano leggera, 15 cm, 20 cm di distanza tra l'aerografo, l'aeropenna e il nostro pezzo in plastica, e gli andiamo a dare una mano leggera di colore. Ora, ecco qua. E abbiamo dato la nostra manina leggera. Ora, lasciamo un attimino asciugare i due pezzi e li andiamo a riprendere. Ecco qui, il nostro pezzo che abbiamo fatto in precedenza, il nostro aerografo, e via, a che andiamo a dare la seconda mano, che è quella che ci darà poi il colore praticamente definitivo. E vedete che ora è diventato il nostro pezzo di colore bianco. Naturalmente noi non dobbiamo andare a sommergere di colore il nostro pezzo, perché sennò non si va a fare un lavoro fatto nel modo corretto. Ecco qui. Andiamo a dare una leggera... E ora vedete che da grigio il nostro pezzo è diventato bianco. E quindi sarà più chiaro rispetto a prima, e quindi il rosso avrà un effetto diverso rispetto a come era in precedenza con un primer grigio. Ma sarà ancora messo più in risalto in un effetto più chiaro. Quindi andiamo a dare la seconda mano all'altra parte. Lo giriamo. E noi abbiamo nel frattempo finito il colore. Quindi andiamo a fare un piccolo rabbocco di colore, sempre shakerandolo. Facciamo una piccola integrazione nella nostra coppa. Vediamo che funziona sempre bene il nostro aerografo. E ora vedete, riprendiamo il lavoro. Ecco qua. Ed ecco qui che praticamente il nostro pezzo è ultimato. E ora è bianco. Lo lasciamo naturalmente asciugare, magari aiutandoci anche con l'aria dell'aerografo. Quindi vedete che ha preso un colore pressoché uniforme. Dopo averlo è, gli diamo un altro giro. Ecco qua. E direi che ora è più che sufficiente. Andiamo a prendere l'altro pezzo. Lo facciamo asciugare. E direi che ci siamo. Ora possiamo un attimo spegnere l'aerografo e vi faccio vedere la differenza tra la parte grigia e la parte bianca. perché così si nota con più evidenza. Voi vedete, qui c'è la parte grigia e qui dove andremo a mettere sopra togliamo pure il nostro coccodrillo giusto per farvelo vedere e vedete che c'è una netta differenza tra parte grigia e parte bianca. Quindi la parte bianca che andremo a fare con un rosso più chiaro risulterà ancora più chiaro rispetto al rosso un po' più scuro che verrà utilizzato nella parte esterna. Adesso vi faccio vedere anche come si fa lo shading prima di passare al colore vero e proprio. Allora amici di Potere Robotica andiamo a avvicinarci alla finitura delle parti rosse che vedete qui il rosso più chiaro e il rosso più scuro quindi i due relativi rossi che andremo a utilizzare di custom service il bright red e il carmin red eccolo qua per la parte più chiara interna e più scura e esterna andremo però ad enfatizzare il tutto dando anche una finitura di pre-shading questo pre-shading come lo andiamo a ottenere? Lo andiamo a ottenere applicando del nero sui bordi esterni e sulle pannellature quindi versiamo del nero all'interno della nostra coppa lo diluiamo un pochettino con dell'acqua quindi ci può permettere di utilizzare una pressione minore e andiamo a fare i bordi delle nostre ali e le pannellature per dare un effetto più scuro su queste parti quindi aspettate solo un secondo che vedo un attimo ecco qui andiamo a ottenere questa sfumatura sulle parti cosiddette diciamo dove ci sono le pannellature ecco qua quindi andremo ad applicare una sfumatura poi leggera soprattutto sui bordi ed ecco qui che vedete che è stata applicata una sfumatura sui bordi che si chiama pre shading quindi andremo a dare un colore più scuro sui bordi e quindi si creerà con il colore rosso un effetto chiaro scuro che si chiama che si ottiene diciamo in pre shading o in post shading ed ecco qui praticamente vedete si ottiene questo effetto chiaro scuro che quando andremo a poi applicare sopra il rosso darà un effetto molto particolare e che a me piace tanto vedete che adesso abbiamo il nostro pezzo bianco al quale adesso noi andiamo ad applicare il colore nero ecco qui adesso andiamo anche a farlo sui bordi quindi tenendo una pressione più bassa si riesce tra virgolette anche a gestire meglio in tutto ecco andiamo ora ecco qui un attimino ed ecco qua praticamente ecco che abbiamo ottenuto questo effetto chiaro scuro ecco che andiamo appena e quindi il nostro rosso sarà applicato con la stessa tonalità ma in modo differente a seconda di dove c'è più o meno nero quindi otterremo praticamente una sorta di gioco di luce ora andiamo a prendere la parte dell'ala e andiamo a fare lo stesso discorso e vedete il nostro effetto nero ecco qui che procediamo ad applicare il nostro nero vedete adesso qui su queste parti qui andiamo a dare un po' di nero a caricare appena ecco qui e quindi andiamo a seguire il discorso della pannellatura per creare un po' di cosiddetti giochi di luce ecco qua andiamo che appena a fare ecco che nulla ci toglie poi anche di poter modificare questo effetto dando dei colori chiari lavorando poi in post shading adesso noi stiamo lavorando in pre shading ma possiamo anche lavorare in post shading quindi dopo aver applicato il colore rosso adesso noi andiamo ad applicare il nero sui contorni ecco qui quindi naturalmente la distanza qua che dovremo tenere dal nostro pezzo sarà diversa quindi teremo una distanza più ravvicinata rispetto quando lavoriamo col colore a definito vedete che io sto molto più vicino al pezzo perché voglio andare a colpire un'area ben specifica volta anche a creare come vedete degli effetti chiaroscuri che è anche il bello della cosiddetta lumezzatura ecco qua ora abbiamo andiamo a prendere un'altra parte sempre rossa che andremo a dare a dargli questo effetto di shading quindi quindi andremo a lavorare più che altro sulle parti pannellate ecco qui quindi qui andiamo a fare il bordo esterno naturalmente dosando il colore perché io faccio un attimino fatica anche dovendo fare le riprese ma vi dico che in questo caso bisogna lavorare un po' di fino ecco qui e quindi vedete che questi effetti chiaroscuri che è dunque ho altre ho un'altra parte rossa ecco qua vedete un po' ed ecco qui andiamo a enfatizzare le parti queste qui più lavorate anche qui dove e vedete che creiamo questo effetto chiaroscuro e direi che è più che sufficiente per poi dopo andare ad applicare il nero è chiaro che questo discorso lo si può tranquillamente fare che lo faccio solo in un unico video anche sulle parti che andremo a colorare metallized silver fine quindi vedete qui dove c'è la pannellatura noi andremo a dare un colpetto di nero ecco qua andiamo a dare un colpetto di nero anche qui un colpetto di nero qua e paf abbiamo ottenuto il nostro cosiddetto effetto shading andiamo a dare anche un colpettino qui appena la puntina sfumata la giusto per fare anche ed ecco qui quindi praticamente ecco qua il cosiddetto effetto chiaro scuro qui naturalmente se avete domande fatemele pure ripeto questi colori qua comunque sono a base d'acqua quindi assolutamente atossici ed ecco qui ottenuto un altro effetto chiaro scuro prendiamo anche quest'altro pezzo vedete che qui dove c'è la pannellatura gli andremo a fare una piccola lavorazione faremo anche la punta finale ed ecco qui un effetto assolutamente chiaro e scuro allo stesso tempo magari possiamo anche caricare leggermente di più soprattutto qui ecco qua quindi vedete l'effetto chiaro scuro come si manifesta scusato ho sbagliato ecco qua ora che ai nostri pezzi abbiamo fatto il cosiddetto shading andremo ad applicare il primo rosso ossia il bright red ora l'abbiamo mischiato a sufficienza l'ulteriore prova che andremo a fare nel nostro aerografo naturalmente sempre prima gli passeremo il cleaner water base diluito nella nostra soluzione ad acqua a pressione 1,82 andiamo a versare nella nostra coppa un po' di sgrassante vediamo che la poriuscita è omogenea e comparta assolutamente perfetto quindi andiamo a versare il nostro bright red nella nostra coppa non ne verseremo tanto perché non dobbiamo fare un pezzo enorme ecco qui abbiamo versato il nostro rosso come si vede facciamo facciamo una piccola prova assolutamente fuoriesce andiamo il nostro pezzo 10-15 cm di distanza e andiamo ad applicare il rosso con mani leggere e naturalmente sono colori adatto quindi necessitano di una pressione un po' più alta rispetto a quelli a diluente o a base alcolica però così sono assolutamente atossici e naturalmente nei link sotto poi potete trovare i codici sconto di potere robotico ora facciamo anche il pezzo dall'altra parte anche se per la maggiore viene nascosto perché si applica ed ecco qui che abbiamo dato la prima mano leggera ora lasciamo un attimo riposare il pezzo e gli andremo a dare un'altra mano ora andiamo a prendere un altro pezzo e cominciamo a dargli sopra anche qui una mano leggera di colore lo vedete non dobbiamo assolutamente inondare il nostro pezzo di colore ma vedete anche che distanza sto di 10-15 cm dal pezzo e andiamo a dare una mano leggera ecco qua ora lo lasciamo un attimo asciugare intanto che noi andiamo a fare ad esempio anche il brain condor visto che ho deciso di farlo di bright red ecco qui ho dato anche per prima mano ho dato anche troppo colore dunque dove è l'altro pezzettino del brain condor eccolo qui che anche a lui gli andiamo a dare una mano leggera di bright red ok possiamo andare a riprendere il pezzo che abbiamo fatto inizialmente quindi sempre a 10-15 cm di distanza cominciamo a caricare un pochettino di più ecco qui che abbiamo dato un'altra mano siamo andati ad attutire quell'effetto pre shading ma pur sempre a mantenerlo vivo come vedete nel nel video ora andiamo a prendere anche l'altro pezzo dove vedete che il pre shading è più presente e andiamo a dare una mano di rosso per diciamo eliminare o comunque non per eliminare per attutire questo effetto pre shading ed ecco qui come vedete che asciugandosi l'effetto pre shading si è diciamo si è andato molto ad attutire e diciamo che ora si vede bene il colore rosso andremo appena a pareggiare anche l'altro pezzo giusto per ed ecco qui il nostro pezzo noi abbiamo adesso andandosi a asciugare poi l'effetto shading tornerà abbastanza evidente ora intanto andiamo a fare anche la parte posteriore anche se quella poi fondamentalmente non si vede ecco qui e vedete che comunque l'effetto nero del pre shading è leggermente percettibile che era quell'effetto che io poi volevo assolutamente ottenere che ripeto andandosi poi ad asciugare il pezzo tornerà a manifestarsi in maniera più evidente qui adesso abbiamo fatto la parte anteriore del brain condor che ora poi il colore si asciugherà andiamo a fare la parte posteriore del brain condor molto bello questo bright red molto luminoso ecco qui e qui abbiamo fatto la parte finale del nostro brain condor vediamo no 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 se riesce a mettercelo a fuoco ed ecco qui il nostro pezzo colorato di rosso che ora si asciugherà pian piano e poi dopo andremo a applicare il perlato e poi i vari lucidi per poi arrivare finalmente direttamente alla finitura ora vi faccio anche rivedere gli altri pezzi che si stanno lentamente asciugando quindi vedete l'effetto shading che vi dicevo visibile anche su questo pezzo e ora andremo a fare le parti di rosso scuro ora passiamo alle parti con il rosso più scuro con il carmine red ora l'abbiamo ben shakerato lo versiamo all'interno della coppa del nostro aerografo sempre lo utilizzeremo a pressione 2 ecco qui e lo andremo a applicare sulle restanti parti delle ali quindi andremo a prendere questa parte delle ali che vedete con questo effetto di shading e andremo a dargli il colore rosso ecco qua quindi a pressione sempre 2 una mano leggera ecco fatto ora il colore è stato applicato lo giriamo andiamo sempre a dare una mano leggera di colore distanza 10-15 cm dall'aerografo del pezzo e pressione 2 bene adesso abbiamo dato una mano leggera stop andiamo a fare un altro pezzo quello qui vedete sempre con questo effetto chiaro scuro bene basta andiamo a fare da un'altra parte ecco qui calma lasciamo asciugare e andiamo a fare un altro pezzo nel frattempo l'altra ala scedizzata boh giriamo il pezzo e abbiamo applicato una mano leggera su tutta la superficie ora andiamo a prendere il primo pezzo e andiamo a dare un'altra mano per aumentare la quantità di rosso e vedete che l'effetto shading si vede abbastanza bene che era poi quello che volevamo ottenere molto bene ricordiamoci di fare tutto tutta l'ala ecco qua ora come secondo passaggio direi che è più che sufficiente andiamo a prendere un altro pezzo e vedete la differenza chiaro scuro ecco qui poi è chiaro che se noi la vogliamo andare a mettere ancora più in risato la differenza chiaro scuro potremo comunque lavorare in post shading come vi ho detto non è necessario lavorare solo in pre shading ma si può lavorare anche in post shading ecco qui ecco qui vedete l'effetto chiaro scuro sulla nostra alla alla ecco qui aspettate solo un secondo ecco qua ecco ecco qui vedete l'effetto chiaro scuro dovuto allo shading procediamo procediamo con l'applicazione del carmine red ed ecco qui vedete che abbiamo diciamo attutito l'effetto del pre shading ed ecco qui ora facciamo anche la parte posteriore anzi questa sarebbe la parte davanti dell'ala quella che noi vediamo da davanti e lasciamo vivo l'effetto pre shading ma lo andiamo ad attutire ecco qui vediamo appena poi come vi ho già detto andremo ad applicare poi sopra il colore per lato per dare più tridimensionalità al nostro pezzo ecco qui ora andiamo a prendere le parti sempre dello scrander anzi delle ali diaboliche in questo caso ecco qui peccato che in questo kit non abbiano messo il great booster però vabbè come poi nella serie infinity non non si vede in altro modo il great booster ecco qui andiamo poi a prendere la parte dell'anzi andremo a fare un rabbocco di colore nel nostro aerografo e andiamo a prendere la parte dell'ala e andiamo a dare come ho fatto in precedenza una mano di colore dove lasceremo sempre l'effetto shading ma lo andremo diciamo ad attutire ecco qui adesso vedete che è sempre ben visibile l'effetto shading ma l'abbiamo minimizzato maggiormente perché così andremo avremo un leggero effetto chiaro scuro come si vede anche da questa ripresa ecco qua io direi che abbiamo raggiunto l'obiettivo forse dico forse si può vedete che c'è ancora un effetto scuro sul nostro sulla parte andiamo a dare un'altra manina sul nostro modello per diciamo abbassare l'effetto ed ecco qua ora direi che lasciamo riposare il tutto e poi rivedremo il nostro pezzo che noi andremo applicare poi il pearlescent red che darà un effetto più tridimensionale al nostro al nostro scrander o soprattutto le nostre ali diaboliche per poi dopo andremo applicare il lucido però questo intanto è tutto allora amici di potere robotico andremo a conoscere questo colore il pearlescent bright red che lo applicheremo sopra a queste parti che abbiamo già colorate di rosso gli andremo a dare un effetto perlato lo andremo a dare sopra sia al rosso carmine e al rosso al bright red quindi andremo a creare un effetto perlato sia sulla parte più chiare che su quelle più scure ora come si applica questo colore si applica sempre diciamo le prime mani molto leggere per poi magari andare a caricare leggermente di più ora prendiamo il nostro aerografo naturalmente prima lo passiamo con un giro di cleaner diluito in una soluzione d'acqua quindi vedete qui vado a versare nella coppa un po' di cleaner diluito in una soluzione d'acqua vediamo eccetera e il nostro aerografo funziona perfettamente quindi già in precedenza avevo shakerato il nostro perl gli vado a dare un altro giro di shakeraggio lo versiamo nella nostra coppa ecco qui ne ho versato probabilmente anche troppo e andiamo a colorare le nostre parti diciamo rosse gli andiamo a dare un giro di rosso perlato ora dato che il nostro aerografo ce lo permette andiamo a strozzare l'uscita per dare una mano così sicuramente velata ora vedete che sto a questa distanza e vado a dare come vedete una mano molto molto velata di questo fantastico prodotto di custom service poi dopo andremo a vedere che risultato ci dà che effetto ci dà anche sotto il sole ora ho dato una mano leggera leggera vado a fare l'altra parte vedete a che distanza sto una mano leggera leggera giusto per andare a bagnare il pezzo e lo lasciamo riposare prima di dare una seconda mano andiamo a fare l'altro pezzo con lo stesso sistema e diamo una mano leggera leggera sempre pressione a due atmosfere mi raccomando e andiamo a fare l'altra parte sempre con una manina leggera leggera ecco qui lasciamo riposare il tutto e lo andiamo a riprendere appena si è asciugato noi adesso facciamo le parti invece con il rosso più chiaro il bright red e utilizziamo sempre lo stesso sistema una passatina di pearlescent red molto molto leggera che funge da fissante e poi andremo a dare altre mani leggere del nostro colore così da dare un effetto perlato come finitura per il nostro per le nostre ali ora sempre una mano leggera leggera di pearlescent red ecco qui naturalmente io tengo sempre castrato il mio aerografo così da far uscire poco colore andiamo a fare la parte posteriore anche se la parte posteriore praticamente non si vede ecco qui abbiamo fatto il nostro i nostri pezzi ora aspettiamo un attimino e poi andiamo a dare una seconda mano abbiamo fatto riposare il giusto dei nostri pezzettini quindi 5-6 minuti e andiamo a riprendere per continuare la colorazione dei nostri pezzi con il colore pearlescent red ora sempre a questa distanza andiamo a dare un'altra mano di pearlescent red ecco qui adesso poi vi faccio vedere perché c'è la luce giusta per farvi vedere poi farvi vedere appieno l'effetto che dà questo colore che è pressoché spaziale ma proprio fantastico fantastico direi che abbiamo applicato colore a sufficienza naturalmente tenendo sempre castrato il nostro aerografo a due atmosfere di pressione per la fuoriuscita quindi voi vedete anche dal video che dall'aerografo esce un piccolo oggetto di colore non non bisogna andare a caricare assolutamente il nostro modello a sovraccaricare di colore ecco qua e vedete che noi abbiamo dato il nostro effetto perlato ora facciamo anche l'altro lato sempre con lo stesso sistema vedete che abbiamo dato una buona quantità di colore senza però esagerare ecco qui ripeto lo andremo a vedere sotto la luce del sole facciamo adesso i due pezzi con il rosso con il bright red al quale abbiamo già dato la prima mano e andiamo a dare una seconda mano e direi anche definitiva mano di colore ecco qua ecco qua andiamo a fare l'altro pezzo e poi dopo ve li faccio vedere sotto al sole con la luce giusta per vedere che effetto dà questo perlato che è pazzesco voi non ci crederete adesso quando lo vedrete sotto al sole che effetto dà anche se avete visto il blu è già un'idea potete anche averla ecco qua ecco fatto adesso l'effetto perlato un po' si vede ma adesso lo andremo a vedere al 100% allora amici di potere robotico siamo arrivati a dare il KSV1000 supergloss alle parti rosse e quindi andremo a dare una manina leggera come avete già visto fare in precedenza e poi dopo una mano pesante dopo 4 o 5 minuti naturalmente adesso prendiamo il nostro aerografo la nostra aeropenna mettiamo la pressione A2 come sempre andiamo a prendere la nostra soluzione di cleaner diluita in una soluzione d'acqua da un litro versiamo dentro alla coppa vediamo come era e vediamo che l'aerografo lavora perfettamente prendiamo il KSV1000 lo shakeriamo e andiamo ad applicare il prodotto sui una manina leggera sui nostri pezzi rossi e ci avviciniamo alla fine anche per questi pezzi allora vediamo qui abbiamo applicato una mano leggera sul nostro pezzo andiamo a prendere un altro e andiamo a dare una mano leggera anche qui vedete una mano leggera per poi andare a dare una mano tosta e pesante allora manina leggera sulla sul nostro pezzo vedete manino leggera leggera ora andiamo a prendere le nostre ali diaboliche e abbiamo dato una mano leggera e abbiamo dato una mano leggera da una parte e dall'altra in questo caso specifico perché si vede da due parti e abbiamo dato una mano leggera questa è tanto fra 4-5 minuti andremo a dare poi una mano pesante eccoci qui per dare la seconda mano di KSV1000 in maniera pesante sopra le nostre parti rosse ecco qui vediamo che c'è una leggera sfumatura di lucido di KSV100 per ora invece dare la mano pesante sempre accendiamo la nostra volta pressione a 2 pezzo e reopena e giù di mano pesante ecco ora il nostro pezzo deve essere assolutamente come vedete bagnato ora si asciugherà e noi abbiamo applicato la nostra mano pesante che che ora si asciugherà ve lo farò vedere poi quando è asciugato adesso andiamo a dare una mano pesante anche sopra l'altra parte vedete che si vede l'effetto lattiginoso anche come è specificato nelle istruzioni ora prendiamo la nostra ala diabolica e se sta ferma siamo andati ad applicare la nostra mano pesante ora la giriamo perché abbiamo due parti la doveva fare in questo caso e vedete che ho applicato una mano bella sostanziosa ora andiamo a dare una mano pesante vedete e lasciamo naturalmente il tutto asciugare niente questo è quanto per la mano pesante applicato sopra rosso lo lasceremo asciugare e poi andremo a dare il KSV 1000 allora siamo arrivati alla parte finale anche delle parti rosse andremo ad applicare il KSV 100 KS pardon KSV 1000 extreme ultra gloss sulle parti rosse ora sempre il solito sistema mano leggera per poi dare una mano pesante dopo qualche minuto ora prendiamo il nostro pezzo la nostra ala distanza ah naturalmente mi identificavo sempre pressione a due atmosfere e il lucido vuole ben shakerato così che diventa bianco e si attiva ora prendiamo la nostra ala e andiamo a dare una mano leggera 15 cm circa di distanza dal nostro pezzo andiamo a dare come vedete una mano leggera di prodotto la giriamo per fare anche l'altro lato sempre una mano leggera e la lasciamo asciugare prendiamo l'altro l'altra l'altro pezzo dell'ala sempre dell'altro rosso andiamo a dare una mano leggera e questo per cui dopo aspettare andare a dare una mano pesante ora prendiamo l'altra ala come vedete questa è più o meno la distanza che è da tenere con l'aerografo una mano leggera andiamo a dare una mano leggera sul KSV1000 ultra gloss ed ecco fatto vedete abbiamo dato una mano leggera leggera ecco qui l'altro pezzo questa la distanza più o meno che dobbiamo tenere una mano vedete che il pezzo comunque è già sufficientemente bagnato lo lasciamo asciugare e poi andremo a dare una mano pesante ora andremo applicare il KSV1000 la mano pesante sopra le parti di rosso che abbiamo già dato una mano leggera sopra le nostre ali ora andremo a dare una mano pesante che nel frattempo si sono asciugate vedete qua sempre a questa distanza andremo a dare una mano più carica di prodotto quindi vedete di questo super lucido ora andiamo a dare una mano carica anche dall'altra parte ed ecco fatto qui ora abbiamo applicato una mano e lo lasciamo asciugare per almeno 48 ore prima di assemblare il pezzo vediamo qui ecco qui una mano carica qua ora andiamo a dare una mano carica all'altra ala ed ecco cosa si intende con una mano carica cioè ci deve essere un bel quantitativo di prodotto ecco perché il lucido poi faccia il giusto effetto ora abbiamo applicato il giusto quantitativo di colore cioè di lucido e lo lasciamo asciugare per 48 ore poi lo andremo come ho già detto ad assemblare guardate anche le parti rosse come sono venute con il super extreme cioè sono venute veramente come un ciogokino guardate che questo poi ha rosso perlato e quindi si vedranno poi anche le perle nel rosso ma guardate siamo a veramente a livelli pazzeschi guardate il rosso addirittura con il riflesso perlato alla luce del sole e non ditemi che è qualcosa di fantastico con tutto questo con questo brillio dell'effetto perlato no veramente custom service veramente si è superata con questi colori siamo all'eccellenza assoluta un'errore un'errore un'errore